Il Consiglio Comunale di Gandino nei giorni scorsi ha approvato il Consuntivo 2014. Qual è la posizione della minoranza in merito ai conti dello scorso anno? Il nostro voto è stato totalmente contrario anche perché a memoria negli ultimi 20 anni nessuna amministrazione aveva creato un buco nel bilancio comunale. I conti sono in rosso di circa 118 mila Euro. Sicuramente avrà pesato anche il fatto del pasticcio della Tasi dello scorso novembre imputato dalla parte della minoranza all'assessore del bilancio il quale non ha pensato minimamente di dimettersi. Questi conti in rosso sono stati realizzati anche grazie alle spese maggiori che si sono verificate durante l'anno. Una di queste riguarda le rate dei mutui. Noi lo scorso anno avevamo sollecitato l'amministrazione nel rivedere le rate mutui nella particolarità della quota capitale interessi in quanto erano stati impegnati più soldi del dovuto. In effetti a fine anno, quando abbiamo fatto questo consultivo, sono stati stanziati 40 mila Euro in più che potevano essere recuperati, oltre a determinate altre spese che hanno comportato questo buco nel bilancio per 118 mila Euro. Abbiamo anche evidenziato nella nostra relazione come nel comune di Gandino ci sia un calo notevole di residenti. Siamo passati in un anno e poco più, da 5.579 abbiamo perso 100 abitanti. È abbastanza chiaro che tutte queste novità, questi tentativi di portare, vedi il maestro spinato, le 5 terre, di portare gente sul territorio di Gandino praticamente non funzionano. Torno a ripetere che il buco di 118 mila Euro che poi è stato ripianato con altre poste in bilancio, è stato creato in poco meno di un anno. Speriamo ovviamente che l'amministrazione comunale non ci riservi qualche sorpresa con l'aumento delle tasse comunali per ripianare questi buchi di bilancio. Nella stessa seduta è approdata in consiglio l'ormai nota vicenda dello sgombero neve sulla strada del Monte Farno. Siete soddisfatti delle spiegazioni fornite dall'amministrazione? Assolutamente no. Lo spirito di Pinocchio alleggiava sopra la maggioranza in quanto hanno sempre dichiarato di non avere fondi per effettuare questo servizio. Nel consultivo c'erano ancora 7.500 Euro al 31 12 2014 mai spesi per questo servizio. Ora non riusciamo a capire come mai questo accadimento contro una località turistica come il Farno da parte del sindaco. Se c'è qualcosa di oscuro vedremo di scoprirlo e di rendere un'altra popolazione.